Ciao a tutti Crazy Family! Io sono Grace e questo è il mio canale. Oggi sono accompagnata degli ospiti speciali, come sapete, che ho i miei BAU. Come potete vedere oggi non sto al top, però non volevo farvi mancare il video di oggi. Quindi, cosa posso dirvi? Vi ho dato già qualche indizio sulla community del canale, dicendovi che si trattava, che poteva ricordare un po' la storia della bella addormentata nel bosco. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, direi sigla e poi andiamo col racconto. Carolina Olson, che è la persona di cui parleremo oggi, nasce il 29 ottobre del 1861 ad Ocno, in Svezia, ed è la secondogenita di cinque fratelli. Sua madre si occupava della casa e di far crescere dell'educazione dei propri figli, mentre il padre lavorava come pescatore. Gli Olson erano una famiglia molto povera economicamente. Una fredda mattina del febbraio del 1876, esattamente il 18, Carolina, 14enne, stava tornando verso casa dopo essere stata in paese per sbrigare alcune commissioni, come fare la spesa per conto della madre. Però prima di andare a casa, la ragazzina decise di fare una piccola deviazione, di andare a trovare il padre, che quella mattina si era svegliato molto presto, si era svegliato all'alba, per recarsi al ruscello per andare a pescare, sperando di pescare qualcosa per poi riuscire a venderlo. Arrivata dal padre, Carolina si fermò solamente qualche minuto a parlare con lui, a raccontargli che cosa aveva fatto in paese, per poi salutarlo affettuosamente e andare verso casa. Come però vi dicevo era febbraio, faceva molto freddo e le rocce sulla sponda del ruscello dove il padre stava pescando erano molto scivolose perché ghiacciate. La ragazza poggiò male un piede su una di esse e scivolò cadendo a terra, battendo la testa e rompendosi un dente. Dovete sapere però che c'è anche chi dice che c'è un'altra versione di questa storia. Si dice anche che Carolina tentò di attraversare il ruscello, cadde in acqua e finì per rischiare di annegare. Ma fortunatamente il padre riuscì a prenderla subito e la tirò fuori dall'acqua. Ma la versione tra virgolette più ufficiale, diciamo così, è quella che vi ho raccontato per primi, per prima scusate. Fatto sta che anche se dolorante per la botta presa alla testa e comunque una caduta sul ghiaccio e sulle rocce, la ragazzina se ne tornò da sola verso casa. Passò il resto della giornata però lamentandosi del forte dolore che aveva. La madre questo però lo riconduceva alla frattura, alla rottura del dente dovuta dalla caduta. Il padre invece dovete sapere che era molto superstizioso, era un uomo molto superstizioso e di fatti disse che questa era una punizione divina per essere stata così spavalda a camminare su quelle rocce e quindi doveva aspettarselo. Sarebbe comunque passata secondo lui dopo una bella notte di sonno, altrimenti se così non fosse stato l'indomani l'avrebbe accompagnata dal medico in paese. La mattina seguente arrivò, tutta la famiglia si svegliò come sempre alla buon'ora, il padre si alzò presto come sempre all'alba per andare a ruscello a pescare, ma Carolina non si svegliò. Non volevano disturbarla i genitori perché comunque aveva avuto una brutta caduta il giorno prima e magari aveva bisogno di riprendersi e di riposare un po' di più, quindi non la svegliarono. Carolina dormì per tutta l'intera giornata, dormì anche per l'intera giornata del giorno seguente e di quello dopo ancora. Quello era il terzo giorno di sonno, a quel punto finalmente oserei dire i genitori iniziarono a preoccuparsi un pochino, allora pensarono di andare a svegliarla, andarono, la chiamarono, hanno cominciato anche a scuoterla, ma nulla. La ragazza era addormentata in un sonno profondo. A quel punto decisero finalmente di chiamare il medico del paese che immediatamente si recò a casa degli Olson a visitare la ragazza. Anche lui tentò scuoterla, la prese a schiaffi addirittura e prese un ago e cominciò a pungerla sotto i piedi e sulle mani, ma non ci fu nessuna reazione. In poco tempo la notizia di Carolina, del sonno di Carolina, non fece il giro solo delle zone limitrofe, ma fece il giro addirittura di tutta la Svezia. Questo portò decine e decine i ragazzi di medici a recarsi a casa di Carolina per visitarla, anche a titolo gratuito. La maggior parte di questi medici arrivarono bene o male alla stessa tesi, cioè quella che la ragazza fosse caduta in una sorta di coma profondo, anche se in realtà pareva davvero che stesse solamente dormendo, riposando. Il problema qual era però? Che la ragazza dormendo non poteva alimentarsi come poteva farlo. Quindi dissero alla famiglia di alimentarla tramite latte e zucchero. Ovviamente questo è ciò che fecero, dietro consiglio medico. Nel frattempo altri medici si offrirono di andare a visitarla e altri medici comunque andarono a casa di Carolina. Purtroppo però tanti di loro vedendo lo stato della ragazza, dissero alla famiglia che lo stato comatoso di Carolina non sarebbe durato a lungo, perché purtroppo quello avrebbe portato Carolina a morire. Ma avevano dato anche una spiegazione a ciò. Pensavano che la caduta avesse provocato delle fratture cerebrali interne ovviamente che però i loro strumenti non potevano rilevare. Quindi era tutto un se, un forse, però la loro ipotesi era questa. Però i giorni passavano, come passavano le settimane, come passavano i mesi e come passavano anche gli anni. Carolina rimase in questo stato per 32 anni. Amici arriviamo ora al 1892. Carolina aveva 30 anni quando finalmente dei medici si decisero a ricoverarla in un ospedale per farle delle visite più specifiche. Diciamo che ci hanno messo un po'. Questi medici constatarono sbalorditi che nonostante la ragazza si trovasse in questo stato di incoscienza, il suo metabolismo rallentato stava comunque facendo crescere il suo corpo, trascurando solamente alcune parti che non erano fondamentali. Che ora io mi chiedo quali possano essere le parti del corpo umano non fondamentali, ma io non me ne intendo, quindi se qualcuno lo sa me lo scriva qua sotto. I medici quindi pensarono, arrivarono a questa ipotesi che la ragazza fosse in una condizione di letargo come quella degli animali e fecero l'esempio alla famiglia del letargo degli orsi. Sì. Nel 1905 purtroppo la madre della ragazza venne a mancare per problemi di salute e poco dopo vennero a mancare anche due dei fratelli di Carolina, per purtroppo un bruttissimo incidente. Dopo la morte della madre la famiglia assunse una governante che si preoccupava di tutto e per tutto della ragazza, dal lavarla, dal gestirla, dal cambiarla, dall'alimentarla, perché come vi dicevo si alimentava dietro consiglio medico di latte e zucchero. La governante gliene dava due bicchieri al giorno tramite un cucchiaino. Tutto ciò fino al 3 aprile del 1908, quando Carolina si svegliò improvvisamente da sola. A ritrovarla fu la governante. Entrò in camera e la trovò a terra, in lacrime, in una sorta di crisi isterica. Non possiamo neanche lontanamente immaginare lo shock che ha avuto quella donna. Immediatamente però andò a chiamare gli ultimi due fratelli che erano rimasti a Carolina, che si recarono dalla sorella. purtroppo però lei non li riconobbe. Erano comunque passati 32 lunghi anni. Le cose attorno a sé erano cambiate, come i volti, come anche la casa. Non la riconosceva più. Lei se la ricordava come quando aveva 14 anni. Fu immediatamente visitata. Era molto debole, deperita. Alla fine si alimentava solamente con latte e zucchero. Era anche molto sensibile alla luce. Alla fine i suoi occhi erano stati chiusi per diverso tempo. Dovevano riabituarsi. Dopo il risveglio faticava anche a parlare inizialmente. Però le era rimasto tutto ciò che aveva imparato fino al momento in cui si è addormentata a 14 anni. Una cosa però fu quella che scioccò di più la ragazza. Ormai donna. Quindi che scioccò di più la donna. Guardarsi allo specchio. sì perché i medici una delle prime cose che fecero per far rendere conto anche la ragazza di ciò che stava accadendo, comunque le era accaduto, fu quella di metterla davanti a uno specchio e guardarsi, guardare il suo riflesso. Questo la scioccò talmente tanto che la portò ad una crisi veramente pesante, una crisi di pianto, si buttò a terra, non sapeva chi era la persona riflessa nello specchio. Perché giustamente lei non si riconosceva in quell'immagine. L'ultima immagine di sé che aveva era quella di 14 anni. Era quella di quando aveva 14 anni. È uno shock. Io non so come potrei reagire in una cosa simile. Cioè se dovessi vedermi dopo anni e non riconoscermi dovrebbe essere un trauma veramente, veramente grande. Carolina fu portata anche a Stoccolma e fu sottoposta a diversi test psichiatrici che però appurarono che lei era in pieno possesso delle sue facoltà. Ma non come una donna di 46 anni, ma come una ragazza poco più 25 anni. Alla fine ricordiamoci ciò che abbiamo detto prima. Ciò che abbiamo scoperto prima. Che il suo metabolismo la continuava a far crescere però in modo rallentato. Nonostante ciò la Olsan continuò a vivere una vita felice con questa piccola grande parentesi traumatica. Perché possiamo dire così? Si sposò, ebbe una famiglia e morì all'età di 88 anni, 5 aprile del 1950 nel suo villaggio di Okno in Svezia. Morì per emorragia intracranica che i medici ricollegherebbero proprio alla caduta di quando era ragazzina. Quella famosa frattura cerebrale che dicevano proprio i medici durante le visite nel suo stato comatoso. Ancora oggi però ragazzi non si spiega come tutto ciò sia stato possibile. Addirittura tanti dicono che sia stata tutta una messa in scena. Questo lo dicono perché? Perché i suoi capelli erano sempre curati e a posto, le sue unghie uguali, la ragazza era sempre pulita. Però vi ricordo che la ragazza aveva una governante che si prendeva cura di lei in tutto e per tutto, sia dall'igiene che dall'alimentazione che la cura del corpo. Si dice anche che Carolina ogni tanto si svegliava. Ahimè non era proprio così. Il medico curante di fatti però spiegò che la ragazza ogni tanto faceva dei versi, mugugnava. Lui questi versi, questi mugugni, li aveva interpretati come dei lamenti di dolore o di rabbia. Ora ragazzi siamo arrivati alla fine di questa storia strana. Anche questo comunque è ancora un mistero medico, chiamiamolo così, perché effettivamente non si riesce a dare una spiegazione totalmente credibile o comunque certa a questa vicenda. Ora vi chiedo se voi la conoscevate già questa storia o se è la prima volta che la sentite. E vi chiedo ora se avete capito perché ho fatto il collegamento nel dandovi l'indizio con la storia della bella addormentata nel bosco. Ovviamente l'avrete capito anche dal titolo che ho messo in copertina. Quindi io se siete arrivati fino a qua vi mando un bacione grandissimo e vi ringrazio infinitamente. Se non siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Io vi ringrazio ancora, vi mando un altro bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!